Il liceo del Cossatese a Vallestrona è una scuola relativamente giovane, come autonomia è nata dieci anni fa, ma nella realtà le sue origini risalgono a ben 40 anni fa, quando è stato costruito l'edificio principale, la sede di Cossato, per ospitare il liceo scientifico tradizionale. Col tempo poi la scuola si è arricchita, si è sviluppata, attualmente qui a Cossato abbiamo tre percorsi, oltre al liceo scientifico abbiamo il liceo linguistico, il liceo delle scienze umane e nella sede staccata di Mosso abbiamo il liceo delle scienze applicate e il liceo economico-sociale con la sperimentazione quadrinale. Per i punti di forza del liceo sicuramente, come potete vedere, c'è la posizione e le dimensioni. Noi siamo il liceo di Cossato immerso in una zona verde, molto bella, tranquilla e le dimensioni sono quelle di una scuola medio-piccola, siamo circa 750 studenti, quindi è una scuola proprio a misura di studente, dove ci sono rapporti stretti e diretti fra allievi, allievi e docenti. Questo fa sì che ci sia un clima cordiale, accogliente, che favorisce le relazioni interpersonali e soprattutto un'attenzione alle esigenze e alle necessità degli studenti. A me piace descrivere questa scuola come un'azienda a gestione familiare. Il nostro liceo è consapevole delle importanze di offrire ai nostri ragazzi opportunità di crescita anche al di fuori del percorso scolastico tradizionale. E' per questo motivo che abbiamo molteplici progetti, molti anche finanziati dall'Unione Europea, come quelli di mobilità internazionale, che arricchiscono l'offerta formativa e che i nostri ragazzi possono scegliere a seconda dei loro interessi, attitudini e vocazioni. La nostra scuola è inoltre consapevole dell'importanza di approfondire lo studio delle discipline STEM, scienza, tecnologia, informatica e matematica e soprattutto dell'importanza della didattica laboratoriale. In questi ultimi anni infatti sono stati rinnovati completamente i laboratori di scienza e di informatica, sia del segno di Cossato che di Mosso, ed è stato anche allestito ex novo un laboratorio specifico da corsi di robotica e domotica qui a Cossato. Il nostro liceo non vuole trasmettere solo un sapere o un saper fare, ma vuole fare molto di più. Vuole formare elementi aperti, duttili, elastiche, capaci di affrontare dei pentini cambiamenti di una società in continua evoluzione, sempre più complessa e perconnessa.